Il mio nome è Gianluca Dallatana, sono un tecnico ortodontista, lavoro in campo ortodontico dal 1989 e sono proprietario del laboratorio Union Tech insieme al mio socio Roberto Riva e ci occupiamo di mini pianti da tre anni a questa parte. L'esigenza che ci è stata richiesta e che abbiamo studiato insieme al dottor De Gabriele è quella di dare un servizio attraverso una sistematica di chirurgia guidata che attraverso dei software ci consente di posizionare in maniera virtuale dei mini impianti. La sistematica tecnicamente prevede una programmazione digitale che viene fatta direttamente dal medico. Il medico ci invia il suo progetto, dopodiché noi produciamo una DIMA virtuale la quale ci dà la possibilità di posizionare gli analoghi dei mini impianti direttamente sul modello. In questo modo riusciamo a costruire un'apparecchiatura che viene contestualmente consegnata al medico insieme alla DIMA.